E adesso è il momento di far entrare un'intera famiglia, perché la storia l'abbiamo raccontata già qualche tempo fa perché è stata oggetto di una fiction molto di grande successo su Rai 1, Sorelle per sempre, era uscito anche il libro. Diciamo che questa è la storia che rappresenta un po' la paura, il terrore, l'incubo di tutte le mamme, di tutte le coppie dei genitori. Cioè che i propri figli vengano scambiati in culla. Questa cosa è successa davvero e la storia, il lieto fine che questa storia ha, dimostra che poi nella vita tutte le piccole, grandi difficoltà si superano grazie a una cosa sola, all'amore. Signore e signori, è con grande piacere che ospitiamo Marinella Marino, Gisella Paladino, Caterina Laria, Ben tornate, benvenute, tutta la famiglia insieme, ciao Mauro, caporiccio, sceneggiatore e scrittore, allora aspetta che vi rifocalizzo. Marinella. Marinella. Gisella siete bellissime, sembrate quattro sorelle, veramente è un'emozione vedervi insieme. Grazie, grazie. E allora Caterina è la figlia di Marinella, chi è Caterina? Io. Eccola qui. E Melissa Foderà è la figlia di Gisella. Ovviamente quando questa storia l'abbiamo raccontata, succede che quando Caterina e Melissa nascono, per un errore folle e sconsiderato, a Gisella viene data Caterina. A Gisella Caterina, sì. E a Marinella, se tu a Gisella e a Marinella viene data Melissa, con la conseguenza che anche i nomi che voi avete scelto non erano quelli giusti, non erano quelli che poi volevate per le vostre figlie. Mi ricordi ancora una volta, Marinella, il momento in cui tu all'asilo ti sei accorta che quell'anno era tua figlia? Sì. O hai avuto il sospetto? Sì, sì. Quando l'ho vista ho notato subito la somiglianza con gli altri due miei figli che avevo a casa, subito. Quindi sono rimasta un po' senza parole. Poi all'arrivo di Gisella che veniva a prendere Caterina ho avuto la conferma che c'è stato uno sbaglio. Da istinto materno? Sì, perché ho riconosciuto Gisella che ha partorito insieme a me in ospedale, quindi ho detto allora qua lo scambio c'è stato. E invece voi due che avevate all'epoca, era il 1998 la vostra data di nascita, che cosa ricordate del momento in cui poi alla fine si è deciso dopo le analisi fatte che veniste scambiate? Allora, noi la nostra storia ce la ricordiamo così in parte, magari a pezzi, proprio perché ci hanno raccontato i nostri genitori alcune cose e quindi cerchiamo di ricostruire quello che abbiamo vissuto grazie al loro racconto. Siamo, cioè fin da subito abbiamo giocato insieme, quindi con gli stessi giocattoli e quindi il ricordo più bello è proprio essere così in una grande famiglia, proprio direttamente essere felici tutti insieme. Tu Gisella hai vissuto, perché poi lei se ne era accorta perché aveva due figlie, per te Caterina era la tua prima figlia e quando ti hanno detto che non era figlia tua e che la dovevi scambiare non è stato facile? No, per niente, non ci volevo credere, mi è caduta il mondo addosso. Ecco, e quindi diciamo la gioia che ci racconta in realtà per te non c'era all'inizio, qual è stata la difficoltà più grossa che hai dovuto superare dopo tre anni in cui tu avevi allattato? Sì, diciamo che non l'ho accettato per niente, all'inizio non l'accettavo questa cosa di dover dare mia figlia a un'altra famiglia, per me era una cosa impossibile. E Melissa, per te cosa voleva dire? Diciamo che... Seguizia, no, no, vabbè tranquilla, ci sta, ci sta, ci sta, rompiamo il ghiaccio. Quando vi siete riviste nella fiction, come l'avete vista la fiction? Tutti insieme? Sì, sì, nella stessa casa. Nella stessa casa, con tutta la famiglia? In tutta la famiglia. Sì, e come è stato? Abbiamo pianto tutti. Sì? Chi è stato il primo a scoppiare a piangere? Mio padre, abbiamo dei dubbi. Tuo padre? No, 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 mio padre l'ha visto dopo, però ha pianto tantissimo. E adesso tuo papà lo colleghiamo, perché dovete sapere che sono collegati da Mazzara del Vallo, in provincia di Trapani, papà Ciccio Lagna, marito di Marinella e papà di Caterina. Papà, Franco Foderà, perché si chiamano pure Franco tutti e due, quindi uno è Ciccio e uno è Franco, veramente, vabbè, questa trasmissione è l'incubo di ogni conduttrice. Allora, chi è Ciccio Lagna? Alzino a mano, Ciccio, benvenuto. Franco, marito di Gisella, eccolo qui. No, lui è Franco, il marito di Marinella, con la camicia azzurra. Va bene, quindi Ciccio. Ciccio, sì. Allora perché ha alzato la mano? Quindi Ciccio, poi c'è Franco Lagna, poi c'è Franco Foderà, poi c'è Lea e Perla, che sono le figlie di Ciccio, giusto? Che sono le sorelle di Caterina, che effettivamente vi somigliate. Vediamo tantissimo. Quindi diciamo che era anche il padre, è vero. E poi c'è Sofia Foderà, che è la tua seconda bimba. So che quando è nata non la perdevate di vista un attimo. No, completamente. Papà Ciccio, quanti pianti ti sei fatto? Non si sento nulla. Non si sento nulla. Ma si sente in tv o è solo la diffusione che non funziona? Non si sento nulla. È un problema del collegamento. Allora adesso lo aggiustiamo e intanto vi facciamo vedere questa intervista che Giovanna Savini ha raccolto intervistando anche Perla. Io avevo a casa per circa due anni e mezzo una sorella che per me è rimasta tale e rimarrà sempre tale. L'impatto, io ho conosciuto una bambina di due anni e mezzo molto vivace, molto vivace. Io anche se ero piccolina ho cercato sempre di mostrare maturità, soprattutto per non fare soffrire i miei genitori ancora di più vedendo noi che soffrivamo. Per la prima volta nell'arco di 23 lunghi anni Perla accetta di raccontare la storia della sua famiglia, lo scambio di due culle nell'ospedale di Mazzara del Vallo in Sicilia. L'arrivo nella loro casa di una terzo genita e anni dopo la scoperta, per caso, il primo giorno d'asilo dell'esistenza di una sorella biologica cresciuta con una donna che la considerava sua figlia. La vita di due famiglie è rivoluzionata da sentimenti contrastanti. Ho conosciuto questa bambina che non ne voleva sapere, era molto attaccata alla madre. Io ho cercato subito di instaurare un rapporto di amicizia, diciamo. E così poi andando avanti, conoscendoci, poi lei si è subito diciamo adattata a noi perché i caratteri sono quelli, siamo tutti piuttosto vivaci e aperti. Quali parole hanno usato i tuoi genitori per spiegarti quello che stava succedendo? Sia a me che a mia sorella è stato detto la verità. È stato detto che c'è stato uno sbaglio dei dottori, degli infermieri che si trovavano lì quella notte. Forse grazie alla verità che io e mia sorella siamo riusciti a superare questa cosa con maturità. Anche se io, mia sorella, l'avevo a casa, avevo questa curiosità di questa bimba che tra l'altro mi somigliava tanto, curiosità di una bambina che sarebbe venuta da noi dopo qualche mese. Adesso la nostra appunto è una grande famiglia dove c'è spazio per tutti, spazio per sorelle biologiche e nonna. Siamo cinque sorelle, cinque amiche, cinque nemiche, siamo appunto una grande famiglia. Ma è vero che avete un tatuaggio con scritto sister? Sì, tutte e cinque. Tutte? Tutte e cinque? Fammelo vedere qua sul polso. Sì, tutte e cinque. Chi ha avuto l'idea di farselo questo tatuaggio? Allora, in realtà io ho molto paura dei tatuaggi, quindi non ero molto d'accordo. Però hanno insistito tantissimo, tutte e quattro, e quindi poi dovevo farlo, anche perché il significato è talmente grande che non potevo rifiutare. Perché poi ovviamente tu a tre anni sei passata, Caterina, da una famiglia dove eri figlia unica, a una famiglia dove avevi due sorelle e tu, Melissa, sei passata da una famiglia dove eri con due sorelle più grandi a sei diventata figlia unica. Esatto. Che impatto avete avuto? Sicuramente io ho trovato, come diceva Perla, appunto due sorelle che mi hanno sin da subito amata, creando questo rapporto anche d'amicizia. perché è vero, io piangevo, anche dai loro racconti mi dicevano che non volevo proprio stare, diciamo, in quella casa, in quell'ambiente che era diverso dal mio, super coccolata, l'unica, in famiglia. E quindi il rapporto che si è creato dopo con loro, pian piano, proprio perché erano più grandi, mi ha fatto sentire subito a casa. E quindi, diciamo, col passare poi anche di mesi siamo state tutti bene, anche poi frequentando anche Melissa. Certo, perché poi voi vi eravate viste appena qualche giorno all'asilo insieme, no? Sì, sì, sì. E poi tu Gisella, mi ricordo che mi dicesti all'inizio che appunto per te era una cosa terribile, potevi immaginare che lei poi, perché poi ovvio adesso siamo tutti sorridenti, no? Però per due bambine uscire fuori dalle case, potevi immaginare che Caterina, insomma, non fosse, comunque, cioè, lei mancava a te, ma forse anche, cioè, mamma Gisella ti mancava? Sicuramente. E a te Melissa mancava, mamma Marinella? Sì, penso di sì, cioè, io non mi ricordo perché eravamo molto piccoli, però sicuramente. E tu, non ti mancavano le tue sorelline anche? Sicuramente, c'ero la più piccolina, mi coccolavano sempre, poi ero più silenziosa rispetto a loro, perché ho un carattere molto più chiuso, quindi loro molto vivaci, quindi invece quando poi c'è stato lo scambio mi sono ritrovata da sola. Tu quel momento non te lo ricordi quando ti hanno messo il panierino? No. E ti ricordi quando hai rivisto mamma Marinella, che non era tua mamma, ma era la mamma con la quale hai ricresciuto nei primi tre anni? Sì, mi ricordo, mi ricordo pure che noi siamo andati dal psicologo insieme, quindi per noi era un gioco, quindi noi andavamo là a disegnare la famiglia. E come la disegnavi questa famiglia? L'ho disegnata mamma, papà e io da sola, perché io già stavo con i miei genitori biologici. Tanta roba Paolo, che è diventato un libro, sorelle per sempre, la vera storia dei due bambini scambiate in culla, eccolo qui. Tu cosa hai imparato da questa storia che hai raccontato? Tanta roba, proprio tanta roba, un po' come tu apri le tue puntate, perché qui c'è l'amore diffuso, però prima di essere tale è stato un conflitto diffuso, una guerra diffusa tra magari le mamme, ma anche tra moglie e marito, e anche con conflitti apertissimi che hanno avuto degli sviluppi, come io scrivo nel libro. Cioè fammi l'esempio di questi papà che vediamo adesso. Ma sai, Franco per esempio, io lo racconto nel libro, per un periodo si isola completamente, Franco ciccio in questo caso. Marinella lo spinge in qualche modo a restare, però lui comunque non accetta l'arrivo della figlia biologica, non perché non volesse bene alla figlia biologica, perché in qualche modo non accettava questo lutto, perché tale è stato vissuto un po' da tutti. E allora parte, va comunque in mare per diversi mesi, quando ritorna la figlia biologica chiede perché te ne sei andato. E allora Franco strammatizza tutto, ciccio strammatizza tutto e dice sei figlia di Marinaro adesso, cioè per dire comunque abituati alla mia assenza. Ma era un modo per dire, comunque oggi ci sono, nonostante la mia assenza, la mia figlia. È andata così, ciccio, perché poi noi abbiamo parlato con le mamme, anche quando siete venute ospiti a settembre, e papà, voi che ruolo avete? Non è andata così, esattamente. È stata così? Sì, sì, sì. Ma quando tua moglie Marinella... Non accettavo quello che mi aveva detto mia moglie, però... Tua moglie Marinella? Sì, sì. È perché è stata Marinella a dire, avendo riconosciuto la somiglianza con le figlie, a dire, no, non è lei mia figlia, è quella che vive a casa. Sì, è stata mia moglie, sì. E quando te l'ha detto, tu che cosa hai pensato, quando ti ha detto che aveva fatto questa scoperta? Non ci credevo, io non ci credevo, non credevo a cosa mi diceva mia moglie, e non accettavo quello che era successo, perché non ci credevo. E quando poi hai capito che invece era la verità, perché le analisi hanno stabilito questa, l'analisi del sangue, DNA? Che devo dire, io continuo sempre a piangere in questo momento, continuo sempre a piangere. Ma cos'è che ti fa più piangere, Ciccio? Non lo so, per me, perché ormai quella che si ha preso Giselle Franco, per me è sempre mia figlia, e la tratto sempre più del cuore delle mie figlie. Quella che si è presa, è così Melissa? Sì, sì, diciamo che lui quando viene dal mare, mi abbraccia subito, non si vuole distaccare mamma, mi dice, dormi qua a casa, in casa mia, e io dormi, sono diventata grande, devo andare a casa. Molto attaccato, diciamo. Siete due sentimentali della famiglia, io parlo di famiglia così, in senso allargato davvero, e particolare come le consonanze del cuore poi trascendano quelle biologiche, no? Sì. No, Melissa? Sì. E ma papà Franco, tuo papà biologico, Franco non è un po' geloso? Non lo so, mi chiede solo. Papà Franco, l'altro Franco voglio ascoltare. No, 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 non sono geloso io. E tu quando ti è stato detto... No, io non sono geloso. E il momento in cui hai scoperto questa verità, che cosa hai pensato? E cosa ho pensato? Di affrontarla. Amaramente, amaramente, ma l'abbiamo affrontata. Dobbiamo andare avanti. Melissa, hai mai pensato che potevate non a Melissa Caterina? Tutto dopo questa sorella ci è capitato. Eh certo. No, vabbè, ovvio, uno dice che deve fare. È tutto molto saggio. E volevo sapere, da Melissa Caterina, se avete mai pensato di che non potevate mai scoprire la verità? Perché in fondo se non aveste vissuto nello stesso quartiere, quindi la stessa classe, potevate non accorgervene mai? Noi anche oggi viviamo con la paura, perché un giorno, spero, sicuramente saremo anche noi genitori. Quindi la nostra paura è quella che ci potrà accadere dopo, anche con i nostri figli. Davvero? Sì. Io mi porto questo dentro. Quindi magari un giorno, quando partorirò, insomma, mia figlia, penso che farò come loro hanno fatto con Sofia. Esattamente. Ecco la Sofia, che è stata sbliguardata a vista. Sì. Sofia, hai avvertito il peso di questa, diciamo, eredità di sorellanza? Eh sì. Che belle che siete. Ho un altro pari domande da farvi, quindi mando la pubblicità e poi dopo ci riconnettiamo. Ok. Brava Melissa, che è tornata forte. Eccoci qui, stiamo qui raccontando la storia di Caterina e Melissa, scambiate nella culla con le loro bellissime famiglie, oramai una grande famiglia allargata. Come fu possibile, perché non è più possibile che si riverifichi, vorrei anche trassicurare, giustamente le due, speriamo un giorno, mamme. Se lo vogliono. Certo, allora, all'epoca non c'era la legge del braccialetto obbligatorio, però la negligenza fu enorme, perché comunque vennero... Adesso quando nascono i bimbi viene messo un braccialetto. Sì, ma adesso sono tanti, ecco, diciamo così, tanti gli accorgimenti che vengono usati. All'epoca non c'era questa legge, ma ci fu appunto una negligenza molto colpevole da parte dei sanitari e dell'ospedale di Mazzara. E poi c'è anche un nonno. Quanti nonni avete in tutto, quindi? Otto. Otto nonni. Otto nonni. Adesso, vabbè, qualcuno manca ora. Ma perché voi avete vissuto insieme giorno dopo giorno, cioè nel momento in cui siete tornate nelle case dei genitori di sangue, per capirci, con quanta frequenza vi siete rifrequentati? In realtà costantemente, tutti i giorni stavamo insieme, io mangiavo da lei, lei da me, quindi dormivamo anche insieme, capitava anche. E poi tutte le scuole anche frequentate... Avete scelto anche la stessa facoltà universitaria, giusto? Sì, anche. Che facoltà è? Scienze dell'educazione. Parlate anche insieme. Penso che se vi fosse state antipatiche, ci avete mai pensato? A volte, però forse perché abbiamo caratteri completamente diversi e quindi l'una compensa l'altra, quindi anche per quello magari riusciamo a stare così insieme, abbiamo creato questo rapporto. E rispetto alle vostre sorelle biologiche, il vostro rapporto qual è? Allora, devo dire che tutti e cinque siamo abbastanza unite. Ma tutte donne, tutte e cinque sorelle, che cosa meravigliosa. Eccole qui, guarda che belle, sì, nella foto tutte e cinque insieme. Una più bella dell'altra, devo dire. Che Dio vi benedica, come avrebbe detto mia nonna. Quindi il rapporto qual è? Che cosa cambia il rapporto fra Melissa e Caterina e fra invece le vostre sorelle di sangue? Allora, forse perché abbiamo la stessa età e quindi c'è un rapporto, diciamo, un gradino in più proprio perché facciamo le stesse cose, quindi stessa scuola, studiamo insieme, però il rapporto con le altre è unico anche, anche con Sofia, sua sorella. Litigi? Eh, ci sono stati, come sorelle, come sorelle. Cioè, cosa litigano queste ragazze? Ma in realtà soprattutto io con Sofia. Eh sì, magari quando erano più piccole, sì, con Sofia litigavano sempre. Anche per il posto in macchina dove mettersi. Sì, sì, perché... Tutte e due, sì. Come l'hai fatta a gestire questa famiglia? Perché poi tu hai tre figlie, adesso Gisella due, però qual è stato il punto di forza della tua... Niente, con coraggio, ogni giorno cosa c'era da fare? Andavo avanti e si affrontava quello che c'era da fare. Come se erano tutte mie e quindi... Come se fossero state tutte figlie tue. Sì, 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 perché li portavo a scuola, all'asilo a Sofia, sì. Perché loro sono cresciute insieme. Anche Sofia poi dall'inizio, sempre a casa mia. Una gelosia fra voi due? Avete mai litigato per un fidanzato? No, magari c'era qualcuno che piaceva a me, piaceva a lei, quindi lasciamo stare. Ma sono di te un mostro di saggezza. Una saggezza assoluta, cioè invece di accapigliarmi fra voi due... No, no, no. Evitavamo gli sconti. Se piacevano entrambe, lo salutavate. Lasciamo stare. E poi c'è Norlo Baldo, sempre intervistato da Giovanna Savini. Mia moglie ha telefonato e ha detto, ci sono problemi. Che problemi ci sono? Io piaccio sempre questa storia. Però, questi problemi li abbiamo risolto. Io sono venuto di campagna, dicevo che i bambini sono scambiati. Ma chi dici? Abbiamo affrontato tutto. Allora io che ho fatto? Ho cercato di portarle tutto. Appena ho visto la bambina, io la prima volta ho visto che era mia nipota, perché, come dice lei, assomiglio, c'è nonno, papà, figli. L'abbiamo cresciuto tutta assieme, abbiamo, per ben vent'anni, abbiamo mangiato sempre qua. E sono orgoglioso io che stanno assieme e stanno bene. Quello che mi interessa a me è stare bene. E mamma e le bambini. Il nonno Baldo è tuo nonno biologico. E come sempre capita, le persone più anziane, come spesso capita, sono spesso le persone più anziane a darci poi la via maestra. Giusto? È stato lui che ha avuto un ruolo importante nella famiglia. Ma anche i genitori di Marinella hanno avuto un ruolo importantissimo, perché in qualche modo li hanno protetti. E questa è una storia appunto dell'amore diffuso, perché anche i nonni hanno funzionato. E si sono sentiti i nonni di tutte e cinque le ragazze, all'epoca bambine. Tant'è che Baldo ancora chiama a bambine cinque donne. Un ricordo di un Natale? I nostri Natali sono stati quasi sempre da nonno Baldo. Quindi con la famiglia di Franco, suo padre, c'era questo rapporto di famiglia proprio. Mangiavamo di tutto e poi c'era quell'allegria, quell'armonia e stavamo tutti bene. Allora mi mancano le due sorelle di Caterina. Cioè Lea, Perra l'abbiamo già ascoltata. Lea non l'ho ancora ascoltata. Qua sono. Ma che cosa ti ricordi, Lea, del momento in cui ti hanno cambiato la sorella? Cioè che tu avevi Melissa e è arrivata Caterina. Allora, è stato un po' traumatizzato del fatto che innanzitutto i miei genitori me l'hanno detto subito. Quindi dentro di me ho capito che qualcosa andava male. Poi pian piano, affrontando la situazione, perché avendo un'età di otto anni e mezzo, non è che capivo tanto. Quindi pian piano ho accettato anche Caterina. La facevo giocare, anche se per me l'inizio era un po' estranea. Perché avevo sempre Melissa in mente, perché per me era quella mia sorella e resterà sempre mia sorella. Però avendo una sorella biologica che è Caterina, per me abbiamo un legame unico. Ci siamo sempre insieme. Tu quanti anni avevi quando è avvenuto lo scambio? Otto anni e mezzo. Ah, quindi eri grandicella. E invece Perla quanti anni aveva? Eh sì. Perla? Sette. Sette, quindi tutte una dopo. Anche tu eri grandicella, Perla. Io avevo circa sei anni. Eh, sei anni. Quindi, ma l'aver... C'è un'ultima domanda che voglio fare a voi, ragazze. Quello che vi è successo vi ha reso più forti o più fragili? Penso che osservandoci la risposta è già chiara, ovvero che ci ha reso tutti molto più forti. Più forti di prima. Camminiamo con lo scudo adesso. Più forti di prima, siamo tutti e cinque legati. Eh, papà Ciccio che dice? Che devo dire? È un po' emozionato. A parte dell'emozione, io spero che le cose vanno sempre bene e andiamo sempre d'accordo. Questo. Gioia, ma certo che sarà così. Caterina e Melissa, come vi ha reso questa storia? Cioè, avete delle fragilità in più? Vi è intorno ai vostri sogni, quello che è successo? Mi ha reso sicuramente più forte. Adesso, forse c'entra anche quello che faccio. Io amo i bambini. Lavoro attualmente in una comunità. E il legame con loro, forse perché ho vissuto, appunto, ed ero veramente piccolina, è unico. Quindi cerco sempre di aiutarli, di comprenderli, di dialogare con questi bambini. La mia storia oggi la racconto e sono felice. Anche per dare esempio. Qual è l'esempio? L'esempio è intanto l'amore. L'amore che abbiamo trovato e soprattutto con anche Giselle e Franco, che per me sono anche miei genitori, assolutamente. E quindi di questa famiglia allargata. Un amore unico, che ci rende così come siamo. Melissa? Per noi ormai questa famiglia allargata è normale. Noi siamo cresciuti e siamo fortunati di avere due famiglie, tutti insieme, e di amarci. Perché non è facile andare tutti d'accordo. Quindi siamo molto fortunati. È stato più istintivo o è stato più lavoro di costruzione? Guardo le mamme. Costruirlo soprattutto, certo. Va bene, io mi immagino adesso cosa accadrà quando loro due diventeranno madri. Quindi ci saranno tutti bisnò, ci saranno 16 bisnò, insomma, li sto perdendo. E tante braccialette per riconoscere. E tante braccialette per riconoscere, davvero. Grazie Mauro Caporiccio, sorelle per sempre, chi volesse approfondire questa incredibile storia, volesse capire come da una vicenda pesante si possa invece uscire con una ritrovata vitalità. Grazie davvero a tutta la famiglia, siete bellissimi. Vi auguro ogni bene a tutta Mazzala del Vallo, davvero gioia nostra, come dite voi giù al sud, no? Gioia mia, giusto? Si dice così ogni tanto. Grazie davvero. E tornate a trovarci, magari ci aggiornate sulle vostre vite. Con piacere, con piacere. La vostra voglia di stare insieme, diciamo, trasuda dai vostri volti, quindi ci dà una bella energia positiva.